Associazione a delinquere finalizzata al traffico di rifiuti speciali è la pesante accusa che ha fatto scattare in queste ore 14 misure di custodia catelare nelle città di Roma, Napoli e in provincia di Salerno. Tra gli arrestati c'è un boss della Camorra, Pietro Cozzolino, considerato il capo dell'omonimo clan camorristico che opera nelle zone di Portice ed Ercolano e nella provincia di Salerno, ritenuto al vertice di un sodalizio criminale dedito al traffico di rifiuti speciali. Con Cozzolino ai vertici dell'organizzazione criminale, il fratello Aniello, anche lui condannato in via definitiva per associazione a delinquere finalizzata al traffico internazionale di sostanze stupefacenti e latitante dal 2008. Da questa mattina sono in corso perquisizioni e sequestri organizzati da parte degli uomini della direzione distrettuale antimafia. Gli agenti della questura hanno effettuato alle prime luci dell'alba anche numerose perquisizioni e sequestri in diversi regioni italiane, sbantellata una vera e propria organizzazione criminale composta da persone che ricevevano, trasportavano, cedevano e comunque gestivano abusivamente ingenti quantitativi di rifiuti speciali, con specifiche condotte di falsità materiale e ideologica in atti pubblici. I reati sono aggravati dall'articolo 4 del decreto legislativo numero 146 del 2006 perché gli affiliati avrebbero fornito il loro contributo nella commissione dei reati a vantaggio di un gruppo criminale organizzato impegnato in attività criminali in più di uno Stato. Tra le attività più significative dell'organizzazione criminale si evidenzia la raccolta di indumenti usati, prodotti tessili e accessori di abbigliamento da rivendere in diversi paesi europei e africani.